Se si desidera creare rapporti personalizzati in Ipassan Manager, iniziare facendo clic sul pulsante di monitoraggio. Quindi fare clic sull'opzione Report in alto. Scorrete verso il basso fino a visualizzare la voce Crea Report e cliccateci sopra. A questo punto, inserire un nome per il report. Scegliere il tipo di report che si desidera creare e inserire una breve descrizione. Fare quindi clic su Avanti. Selezionare ora i filtri per il report. Impostare il time frame. Selezionare la famiglia di eventi e scegliere gli elementi a cui si applica il report. Quindi fare nuovamente clic su Avanti. Scegliere ora le colonne per questo report e l'ordine di visualizzazione. Infine, fare clic su OK per salvare il report. A questo punto il report personalizzato verrà elencato nella pagina. Grazie. 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 Grazie.